5, 4, 3, 2, 1 allora altro video signori bianconeri signori bianconeri altro video fra due giorni scenderanno in campo allo sporting per cercare quantomeno una qualificazione magari 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 ci va bene e andiamo a vincere speriamo bene allora questo è un video anche molto veloce breve 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 perché si fanno brevi video neanche per portarsi la cocozzola e allora di chi parliamo stavolta? caso Vlaovic signori ormai ormai è nell'aria ormai è nell'aria io credo che Vlaovic non resta alla Juve non resta alla Juve già mi sa che ci sarà anche già qualche crebbe che si sarà già parlato parlato per la prossima stagione cosa dire cosa dire cosa dire il signorino ha avuto a disposizione moltissimo tempo per far valere valere questo valore di 80 milioni da cui si sono alla fiorentina i cash cash che ha voluto la fiorentina i 80 milioni che fino a oggi con questi risultati non ha pagato nulla 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 non ho mai visto nessuno che paga 80 milioni per avere questi risultati e che un campione si vede solo se c'è un buon allenatore ok se c'è una voce in giro che Vlaovic non dovesse scendere in campo contro lo Sporting ci spero ci spero signori ci spero ci spero perché quando è uscito lui anche contro la Lazio abbiamo visto un'altra Juve e io spero che contro lo Sporting non scenda veramente in campo e che scenda una Juve diversa magari più motivata io do spazio anche a un infortunato con poco minutaggio a rientro come Milik o a dare più spazio a Keane speriamo anzi che possano giocare tutte e due vediamo 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 signori perché io mi domando solo una cosa se dovrebbe succedere che dovrebbero andare in gol Keane o Milik o magari tutte e due entrambi cosa ne penserete del nostro grandissimo Dusan Vlaovic 80 milioni quando quell'altro ne costa boh forse 26-25 non lo so e quell'altro ancora 7 milioni 7 milioni e Milik prima dell'infortunio stava andando alla grande io non lo so se non si sarebbe infortunato Milik cosa avrebbe avuto più possibilità di scendere in campo di di Dusan però signori sono certo di una cosa sono certo di una cosa ora non voglio dire che Dusan è scasso però sembra che non ci abbia la voglia la voglia di giocare nella Juve non ci abbia la voglia ora ripeto è andato in nazionale ha fatto un gol con la Lituania un gol col Montenegro no uno o due con la Lituania uno mi sembra comunque o uno o due uno o due o con la Lituania o con il Montenegro totale tre gol sempre pensiamo che la Lituania e Montenegro non siano squadre per la quale no avrebbe potuto segnare anche mio nonno vabbè squadre da completate da muratori ci giocano muratori ci giocano in queste squadre tipo Malta non è che ci siano Cipro non è che ci siano questi grandi giocatori queste grandi difese perciò alla fine se non segnavi con loro ti restava la pistola a mio avviso comunque a nocciolo non la buttare troppo nel culo ora perché ti fa giocare a spalla alla porta perché la spalla alla porta è un attimo a girarti e andare in porta no da grande giocatore spalla alla porta cosa vuol dire no che ora perché ora escono tutti questo questo dire gioca a spalla alla porta che vuol dire cosa volete dire perché gioca a spalla alla porta tantissimi grandi giocatori hanno giocato ma pure Shevchenko si ritrovava a giocare a spalla alla porta però i gol li faceva lo stesso Inzaghi ma lo faceva lo stesso partiva da un filo dal fuorigioco Brauvic insomma non prendere queste scuse è l'allenatore è la tattica è spalla alla porta è la pupalgia è la pupalgia se hai la pupalgia è giusto facci facci un favore non scendere in campo fai scendere i tuoi compagni se ti fa male non giocare dillo all'allenatore al mister mister mi fa male ho la pupalgia non riesco a correre me ne vado a fare in culo in tribuna e faccio giocare gli altri e poi vediamo spera che se non giochi gli altri non facciano gol perché sono cazzi sono cazzi ti stai giocando anche a Sassuolo spera ok signori con questo è tutto iscrivetevi al canale seguitemi se volete azionate la campanellina lasciate qualche commento ci vediamo alla prossima stasera c'è la partita dei cartonati i pagliacci stasera i pagliacci stasera ok ce la vediamo tutta sta partita vediamo col Benfica se riuscite a fare come il Porto la vostra com'era catenaccio catenaccio all'italiana fatelo col Benfica ciao a tutti e sempre Forza Juve